Caro diario, mi fu concesso un ultimo sguardo perché potessi portarlo lontano accanto a me. Ora che nave salpa, terraferma non contiene la voglia di andare lontano, ma cede ciò che più avremmo voluto, quello sguardo, quel ricordo, in un bacio mancato, in un desiderio mai denunciato. Deve sarà il viaggio e chissà, magari un inaspettato tornare farà la differenza per sempre o solo per poche ore.